Grandi manovre a Palazzo delle Acule, confermato l'ingresso in giunta di Piero Alongi di Forza Italia al posto di Andrea Mineo di Fratelli d'Italia. Il sindaco Roberto Lagalla apre così le porte ad eventuali altre sostituzioni che i partiti vorranno rappresentare. Una frase sibillina incastonata nella parte conclusiva della nota che il primo cittadino ha diramato alla fine del vertice serale a Villa Niscemi coi gruppi di maggioranza e che lascerebbe presagire la staffetta in casa a Lega fra Sabina Figuccia e Alessandro Anello. Nel momento in cui avverrà il cambio Mineo-Alongi, fra dieci giorni, il sindaco farà un ulteriore giro di consultazione con i partiti e in quell'occasione il carroccio, dove per ora le bocche restano cuscite, dovrebbe ufficializzare l'avvicendamento sollecitato e richiesto a gran voce dal leader nazionale Matteo Salvini.